Professor Botani, che significato ha fare il ricercatore oggi in Italia in una situazione in cui la ricerca non pare avere un terreno molto favorevole? Forse proprio perché il terreno non è così favorevole è particolarmente importante fare ricerca in Italia e in realtà le condizioni reali sono migliori di quelle che non si possono immaginare. Quindi ci sono prospettive concrete per i ricercatori nel nostro paese? Ci sono prospettive concrete e spesso la fuga dei cervelli non è così necessaria come lo si ritiene, nel senso che i ricercatori migliori possono trovare un impiego interessante anche da noi. Di recente qualcuno ha sottolineato che però c'è uno scarso turnover all'interno delle università italiane in particolare, poi questo probabilmente accadrà anche all'estero, lei che ne pensa? No, questo è verissimo, le università italiane hanno un corpo docente e anche ricercatore di ruolo troppo anziano, quindi sicuramente bisogna mettere delle risorse per alimentare la base e far entrare dei ricercatori giovani nei prossimi anni, altrimenti siamo a rischio di estinzione, questa è una cosa tassativa. Nel suo survey nel mondo della ricerca in Italia, quali sono i suggerimenti che vorrebbe poter dare anche ai ricercatori futuri, a quelli presenti, a quelli che si stanno anche diplomando oggi? Sì, quello di avere molto coraggio e anche il coraggio di non seguire solo le mode della ricerca scientifica, che spesso si seguono anche perché sono tracciate da grandi finanziamenti, corrispondono alle indicazioni che vengono dall'alto, ma questo rischia di spopolare completamente dei settori di ricerca che potrebbero essere essenziali e che nessuno persegue perché teme di non fare carriera occupandosi di questi argomenti. Grazie